La tecnologia è ovunque, dai nostri telefoni e televisori, agli autobus e alle automobili. Persino gli utensili da cucina possono essere collegati digitalmente. Le aziende possono entrare nelle nostre vite e connettersi con i consumatori più di quanto credevamo possibile. Benvenuti a The Exchange, sono Guy Sean con le notizie e i protagonisti più interessanti del mondo degli affari. In un mondo in rapida evoluzione non c'è settore che si evolva più rapidamente di quello tecnologico. Un settore all'avanguardia nell'introduzione di idee innovative e di nuovi strumenti per lo svolgimento delle nostre attività quotidiane. La crescita di questo settore è sbalorditiva e non mostra segni di rallentamento. L'industria tecnologica cresce ad un ritmo del 5-6% all'anno. Una crescita che accelererà nei prossimi anni grazie all'intelligenza artificiale che sarà sempre più utilizzata nella vita di tutti i giorni. Nuove tecnologie compaiono ogni giorno, ma anche il loro costo aumenta. Nel 2022 il settore ha speso complessivamente 3.450 miliardi di dollari. Con il progredire della tecnologia acquistiamo e consumiamo in modo diverso. Nel 2022 sono stati spesi 300 miliardi di dollari in pubblicità per dispositivi mobili. Le aziende influenzano sempre di più il modo in cui consumiamo e interagiamo. TikTok è uno dei nomi più importanti nel mondo dei social media. È un marchio in prima linea in questi cambiamenti. Abbiamo incontrato Chris Bodger, direttore generale di TikTok nel Regno Unito. Ci ha raccontato quanto la tecnologia stia cambiando la pubblicità e le abitudini dei consumatori. Pensiamo che ci sia stato uno spostamento importante nell'industria dell'intrattenimento e del marketing verso una forma di narrazione più lunga che mette al centro la creatività. Su TikTok è possibile riprodurre video con il suono a schermo intero. Lo abbiamo visto con i creatori della nostra piattaforma, che sono la linfa vitale della nostra comunità. Permettono ai marchi di essere autentici e di raccontare storie in modi che prima non erano possibili. Inoltre, questa nuova forma di intrattenimento influenza le attività offline. Probabilmente l'esempio migliore è quello che noi chiamiamo community commerce, ovvero il punto di incontro tra lo shopping, la mentalità delle persone che fanno acquisti e i contenuti di intrattenimento presenti su TikTok. Abbiamo visto hashtag come TikTok mi ha fatto comprare, con 57 miliardi di visualizzazioni. Un sacco di video su TikTok sono di persone che scoprono prodotti, li recensiscono e hanno un impatto sul mondo reale. TikTok è un esempio di quanto i social media stiano influenzando il modo in cui utilizziamo la tecnologia. Ma non è solo il consumo a cambiare a causa dei progressi tecnologici. Anche il modo di fare business sta subendo una profonda trasformazione. Per saperne di più, il nostro reporter Ryan Caperell è andato al lancio del nuovo servizio cloud di Google in Qatar. Sì, Guy, oggi sono qui al National Convention Center di Doha, dove i vertici di Google si stanno incontrando per discutere del lancio di un nuovo servizio cloud nella regione. In che modo le grandi aziende come questa utilizzano i nostri dati? Tariq, grazie di essere con noi. Ci puoi spiegare perché il Qatar è la nuova free zone di Google? Grazie per la domanda. Oggi siamo qui in Qatar per lanciare il nostro primo cloud regionale nel Medio Oriente. Fa parte del nostro piano di espansione a livello globale. La domanda dei nostri clienti e partner nella regione è in crescita. Di solito, quando si investe in paesi in cui la domanda è in crescita, la richiesta è quella di stare vicino ai clienti per aiutarli a risolvere i loro problemi. Fa parte di un progetto più ampio di Google in Medio Oriente? Parte del nostro investimento in Qatar è l'infrastruttura nella regione in cui abbiamo lanciato questo servizio. Poi c'è la nostra gente, la nostra forza lavoro e il mercato con il suo ecosistema. Stiamo portando un enorme ecosistema nel paese per aiutare i nostri clienti attuali e quelli potenziali a crescere per raggiungere i loro obiettivi. Puoi illustrarci in che modo aiutate effettivamente le aziende con i dati? Sappiamo tutti che è l'era dei dati e i dati crescono sempre più velocemente. Questo è l'aspetto che ogni azienda deve gestire in modo efficiente. Si tratta di prendere decisioni più rapidamente. Devono prendere decisioni precise, sfruttando la potenza della tecnologia come strumento per ottenere questi approfondimenti. Li aiutiamo fornendo la nostra esclusiva piattaforma di dati unificati, integrata ora con la funzionalità di intelligenza artificiale. In questo modo rendiamo il processo molto più efficiente. I clienti riescono ad avere i dati necessari più rapidamente. Un'era promettente per la regione, sempre più interconnessa. Ma che dire del futuro del settore nel suo complesso? Ho incontrato Mario Aquino, amministratore delegato di Future Labs Ventures a Singapore, un'azienda che investe nei progressi tecnologici. Mi ha dato la sua opinione sulla direzione che sta prendendo il settore. Ci sono nuove scoperte ogni minuto. Viviamo in un'era senza precedenti di innovazione tecnologica. Ci siamo concentrati soprattutto sulla risoluzione dei problemi dei mercati scalabili, a beneficio delle economie locali, ma soprattutto delle persone e delle società. Un'era di rivoluzioni attende il settore high-tech. È il momento della nostra consueta rubrica Business in 60 secondi. Facciamo partire l'orologio. Questo mese Walt Disney pubblicherà i risultati trimestrali. Un anno di alti e bassi dopo il calo dei profitti nei parchi a tema a causa del Covid. L'azienda sta adottando dei correttivi per cercare di tornare in carreggiata. Trimestrale in arrivo anche per Uber. L'azienda ha ottenuto buoni risultati quest'anno e sta cercando di entrare in nuovi mercati. Nel Regno Unito sta trattando con la piattaforma Hopper, che consentirebbe agli utenti di Uber di prenotare voli a prezzi scontati sull'app. Chiudiamo con un'altra trimestrale in arrivo questo mese, quella di Japan Airlines. Quest'anno la compagnia di bandiera giapponese è appuntata ad un nuovo accordo con Boeing ed è stata nominata da SkyTrux come uno dei dieci migliori vettori aerei al mondo per il suo servizio di business class. TikTok e Google ci dicono che le opportunità di business vanno ben oltre la realizzazione di video divertenti. Nonostante le ovvie preoccupazioni sulla sicurezza dei dati, sembra che i consumatori abbiano accolto i giganti della tecnologia in quasi ogni aspetto della loro vita. I confini tradizionali si stanno quindi attenuando. Amministratori delegati, cittadini e governi tuttavia stanno ancora cercando di prevedere sia il potenziale che le insidie di questo rapporto così nuovo ed intimo. È tutto per questa puntata. Grazie di averci seguito. Andate su eronews.com per tutte le ultime notizie sull'economia. A presto.